Questa è Engage Spot Parade, la rubrica che vi porta alla scoperta delle migliori campagne del mese votate direttamente dalla nostra community. In questa nuova puntata abbiamo sottoposto ai nostri elettori una selezione degli spot andati in onda durante il mese di marzo, ma ecco subito i risultati del nostro sondaggio. Partiamo dal podio. Al terzo posto lo spot di Braille, sviluppato e prodotto da Fermento Studio, nuova agenzia animata da un team di giovani creativi e storyteller. The Passengers è la storia di un viaggio, vero o forse solo immaginato, alla scoperta di se stessi. Medaglia d'argento per la nuova campagna pubblicitaria internazionale Share a Piece of You di Emmentaler, creatività che segna il debutto sul mercato di Childe Agency, la neonata agenzia fondata dai direttori creativi Alessandro Egro e Giovanni Chiarelli. Al primo posto il progetto di comunicazione Meno Luce e Più Sogni, nato dalla collaborazione tra Pandistelle e il gruppo Armando Testa, creatività che unisce il racconto del sogno a un tema concreto ed estremamente attuale, come l'attenzione all'ambiente e il risparmio energetico, per diffondere la cultura di scelte etiche e rilevanti in termini di sostenibilità. Insieme a Pandistelle stiamo da tempo cercando di promuovere sempre di più quella che è la cultura del sogno e di ricordare che sognare ha decisamente un impatto concreto sulla realtà. Avere e coltivare sogni non soltanto ci rende delle persone migliori, ma può aiutarci a vivere anche una realtà migliore. Quindi in un momento in cui il tema del risparmio energetico era diventato o è diventato un tema molto attuale e molto rilevante per le persone, l'intuizione di Meno Luce e Più Sogni è stata provare a ribaltare un pochino il punto di vista. Possiamo scoprire ad esempio che l'ascolto di una fiaba diventa ancora più magico, che al buio i sensi si amplificano, che aumenta la capacità di immaginare, la memoria, la concentrazione, oltre alla meraviglia di tornare a guardare il cielo stellato. Lo abbiamo sopra ogni sera, ma quante volte ce ne ricordiamo? L'importante è essere debili, avere dei valori davvero da raccontare e questi valori devono avere una richiamità sulla realtà. Questi consumatori se lo aspettano, anche perché oggi diciamo che esiste una comunità che è fatta di persone, marche che fanno delle cose e insieme interagiscono per cambiare eventualmente il mondo. In questo caso la strada era abbastanza semplice, grazie a Palli Stelle che da sempre ha avuto questo approccio molto concreto. Per essere credibili sia fondamentale che le marche non solo raccontino il proprio impegno, ma anche agiscano in modo coerente. L'obiettivo infatti è sostanzialmente quello di diffondere e promuovere sempre di più la cultura di scelte etiche in termini di sostenibilità. Questa è Engage Spot Parade, la rubrica che vi porta alla scoperta delle migliori campagne del mese votate direttamente dalla nostra community. Noi vi aspettiamo per il prossimo sondaggio su Engage.it per scegliere ancora una volta la migliore campagna del mese. Grazie. 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 Grazie.